Le tracce archeologiche sul colle di San Martino mostrano come il colle sia stato interessato da un grosso insediamento tra V e VI secolo definito Castrum di Artegna. Questo insediamento probabilmente ricalca delle frequentazioni precedenti di epoca romana ed è stato edificato a controllo del territorio e delle vie di comunicazione che transitavano a valle del colle di San Martino. La stessa tavola pontingeriana, una mappa di III-IV secolo d.C., segnala un amansio definita ad Silanos, molto probabilmente collocabile all'interno del territorio del comune di Artegna. Il centro del Castrum era posto sulla sommità del colle e l'insediamento si sviluppava sui suoi versanti. Era dotato anche di una cisterna di forma rettangolare in pietra legata da malta e rivestita internamente da cocciopesto. Si tratta di una malta idraulica che garantiva l'impermeabilità della struttura. La cisterna ebbe un uso piuttosto ampio, tuttavia dopo un periodo di disuso venne impiegata come unità abitativa. È proprio nel corso del Medioevo che si assiste a un cambiamento dello sfruttamento insediativo del colle di San Martino. Infatti, se prima il centro era posto sulla sommità del colle, nel corso del Medioevo il centro si sposta più a valle, a ridosso delle mura di fortificazione, in particolare a ridosso di una delle torri delle mura su cui venne edificato il cosiddetto Castelletto nella seconda metà del XIII secolo. Si tratta di un castello della tipica tipologia friulana pedemontana. È stato edificato dalla famiglia d'Artegna, una nobile famiglia probabilmente di origine tedesca che riprende il nome dal luogo in cui abitava. Il possesso del castello da parte della famiglia dura fino al 1384 quando muore l'ultimo discendente. Il castello passa alla famiglia dei Savornian, che ne detiene tuttora la proprietà. Come detto, la tipologia del castello è tipica architettura dei castelli della pedemontana friulana, cioè con una torre mastio centrale, a ridosso e attorno alla quale si sviluppano una serie di ambienti. Naturalmente quello che si vede oggi è il frutto di più fasi costruttive, sia antiche ma anche moderne, tanto che nel 1976 il castello subì dei fortissimi danni a causa del terremoto e da qui si intrapresa un'opera di ricostruzione e di restauro che ebbe termine soltanto nel 2014.